Non so fare le trazioni, te lo spiego io in un minuto. Per prima cosa dovrete imparare a fare l'Australian Pull Up. Così? No, devi attivare bene le scapole e tirarsi la sbarra verso di te. Un altro esercizio ottimo è il Pull Up Box. Così? No, non si fa così. Mi raccomando, gambe tese, lasciate le molle e andiamo verso l'alto, attivando sempre le scapole. Un altro esercizio fondamentale, la negativa in Pull Up. Saltiamo sopra e cerchiamo di distendersi completamente. Sì ma quante serie, quante ripetizioni? Per scoprirlo seguisci su Instagram.